Le linee guida per l'educazione civica 2024 del Ministero richiedono a scuole e docenti di rivedere e verificare il modo di programmare e valutare le attività progettate sinora, alla luce comunque delle esperienze fatte, delle buone pratiche sperimentate, delle metodologie e degli strumenti di programmazione e valutazione sinora usati, ma anche delle difficoltà emerse. Percorreremo insieme alla luce del nuovo contesto metodi e strumenti per il percorso progettazione, osservazione e valutazione delle attività di educazione civica, confrontandoci anche in modo critico e dialettico con la diversa filosofia delle linee 2024, con i concetti chiave che vi sono espressi, con i traguardi di competenze e gli obiettivi di conoscenza indicati per ogni livello di scuola. Il corso, già impostato in modo dialettico, farà una riflessione critica sui vari aspetti delle linee guida alla luce delle esperienze di questi anni.